Se siete appassionati di videogiochi non cambiate canale perché tra pochissimo parleremo di come diventare dei veri piloti da corsa giocando su PlayStation. Parleremo di retro gaming e del mitico John Romero, parleremo dei migliori giochi e app per smartphone e tablet, parleremo di smartwatch e di cuffie da gaming, curioseremo tra i videogame e le console più popolari a Tokyo e per finire la nostra recensione di GRID Autosport. E' tempo di videogiochi qui su AXN e questo è Game Time. Nonostante la tentazione di spiagge e piscine noi siamo qui e come ogni sabato anche oggi è tempo di videogiochi. Al mio fianco come sempre Raffaele. Presente. Sebastiano. Eccomi. Immancabile Raffo con i suoi occhiali. Fate come se ci fossi. Quanta grazia insomma tutti pronti in posizione perché le cose da dire come sempre sono tante. E tempus fugit come diciamo noi latini ma lasciamo da parte la scuola. Il tempo, anche quello di videogiochi, vola. E già che ci siamo anche un mutatis mutandis che tradotto vorrebbe dire cambiatevi le mutande che non fa mai male. Non credo che il significato fosse esattamente quello. Direi proprio di no ma vabbè comunque è un buon consiglio. Sicuramente ma bando alle ciance e parliamo di cose serie. Lo scorso weekend siamo stati all'autodromo di Vallelunga vicino a Roma dove si sono svolte le finali italiane di GTA Academy. 24 giocatori, i migliori in Italia al volante di Gran Turismo con il sogno di diventare dei veri piloti. Ma solo sei di loro sarebbero stati scelti per andare a Silverson e giocarsi il tutto per tutto contro i migliori d'Europa. Ecco che cosa è successo in quella giornata. A Vallelunga anche quest'anno è andata di scena la passione per una delle serie racing più popolari di tutti i tempi ovvero Gran Turismo. GTA Academy giunta alla sesta edizione è la competizione firmata Nissan e PlayStation che permette ai videogiocatori di diventare dei veri piloti da corsa partendo da Gran Turismo e approdando al volante di una Nissan GTR da oltre 500 cavalli. Un obiettivo che fa gola a tanti, un sogno magari coltivato fin da bambini ma spesso fuori portata per via dei costi altissimi di questo sport. E infatti anche quest'anno in poco più di due mesi sono più di 40.000 gli appassionati che hanno tentato la sorte cercando di qualificarsi per le finali italiane di Vallelunga. Chi da casa propria facendo registrare i migliori tempi nelle prove online su PS3 e Gran Turismo 6. Chi partecipando agli eventi dal vivo. Chi infine attraverso l'app Facebook GTA Academy Challenge, un gioco interattivo che rappresenta una delle novità di questa edizione. Nella selezione sono emersi 24 concorrenti, alcuni giovanissimi, altri ormai in vista dei 40, tutti comunque spinti da una grandissima passione per il mondo del motorsport e dalla speranza di intraprendere una carriera da piloti. Solo sei di loro però avrebbero potuto accedere all'esclusivo race camp sul circuito inglese di Silverstone che si svolgerà dal 29 luglio al 5 di agosto e la selezione si è basata su una serie di prove che i 24 ragazzi hanno dovuto affrontare. A partire dall'intervista, con domande rivolte dai giornalisti come in una vera conferenza stampa, per mettere alla prova la capacità di esprimersi in inglese. Una dota indispensabile per poter comunicare con lo staff che a Silverstone avrà il compito di insegnare a questi ragazzi il mestiere di piloti, ma utile soprattutto in futuro per il vincitore che dovesse intraprendere una carriera di pilota da corsa, per poter interagire con il team e gli ingegneri di pista. Poi prove fisiche per testare la resistenza, una qualità fondamentale nelle gare endurance del campionato GT3, dove il vincitore disputerà un'intera stagione. Quindi una prova al simulatore con Gran Turismo 6 per testare riflessi e sangue freddo. Pochi giri secchi, dove a contare erano le somme dei tempi e sbagliare significava tornarsene a casa. E infine ovviamente una prova al volante su una Nissan Juke Nismo, seguiti dai coach ufficiali dell'evento, l'ex pilota di Formula 1 Tonio Gliuzzi e il pilota portoghese Gonzalo Gomez. Alla fine di un'intensa giornata i sei finalisti italiani di questa edizione 2014 di GT Academy sono Luca Guerra, 24 anni di Carrara, Lorenzo Radice, 30 anni di Carimate, Alessandro Albano, 34 anni di Milano, Pietro Punzo, 22 anni di Novara, Riccardo Massa, 21 anni di Monte San Pietrangeli e Ariel Bernardi, 29 anni di Asiago, che ora dovranno vedersela a Silverstone contro i finalisti di altri 11 paesi europei. Uno di loro potrebbe essere il prossimo vincitore dell'edizione 2014 di GT Academy. In bocca al lupo ai sei vincitori della finale italiana che ora vivranno un'esperienza sicuramente indimenticabile a Silverstone tra leggende della Formula 1 e vetture da sogno come la Nissan GTR. E speriamo che quest'anno sia la volta di un italiano sul gradino più alto del podio. È la sesta edizione, ci sta, dai! Ci auguriamo naturalmente di essere lì anche noi a fare il tifo durante la finalissima. Ora parliamo di gadget high-tech con un nuovo smartwatch e un paio di cuffie da veri gamer, di quelle che piacciono tanto al nostro sterni. Vediamo! Uno smartphone non fa più notizia, ormai ce l'hanno tutti, ma lo smartwatch sembra uscito da un film di James Bond. Si tratta della nuova tendenza in fatto di tecnologia da indossare e l'ultimo arrivato sul mercato è G-Watch di LG. G-Watch ha un display touch da 1,65 pollici di tipo IPS, resistente ad acqua e polvere. La vera novità però è il sistema operativo Android Wear, sviluppato da Google appositamente per gli smartwatch, che rende G-Watch compatibile con gli smartphone dotati di Android 4.3 o superiore. È sufficiente installare sullo smartphone l'app Android Wear e G-Watch si trasforma in un'estensione del proprio smartphone. Con G-Watch potrete visualizzare tutte le notifiche e le schede di Google Now, leggere SMS e mail, vedere poste e messaggi privati di Facebook, controllare la riproduzione della vostra musica preferita, ricevere notifiche delle chiamate senza mai bisogno di sfilare lo smartphone dalla tasca. Potrete controllare G-Watch anche con i comandi vocali, fare ricerche su internet, importare un evento in agenda o una destinazione sul navigatore, perfino dettare un SMS, oppure monitorare l'attività fisica tramite Google Fit e il contapass integrato. Ma sono centinaia le applicazioni già in sviluppo per Android Wear, che estenderanno nel tempo le funzionalità di questo smartwatch. Che non dimentica ovviamente la propria natura di orologio, potrete cambiare la grafica del quadrante e per leggere l'ora non sarà necessario toccare il display, che resterà sempre acceso in modalità risparmio energetico. L'autonomia non è un problema con G-Watch, che è in grado di reggere fino a 36 ore in stand-by. Strix Pro sono le nuove cuffie gaming, leggere, facilmente trasportabili, confortevoli da indossare e in grado di funzionare con PC, Mac, PS4, smartphone e tablet. L'esclusiva tecnologia di cancellazione del rumore filtra fino al 90% dei rumori ambientali, come la digitazione sulla tastiera, permettendo di comunicare in in modo chiaro, senza disturbare gli altri giocatori. Mentre i magneti da 60 mm al neodimio offrono un audio potente e immersivo, ma soprattutto un'eccellente posizionalità, permettendo di identificare al volo la provenienza dei nemici. Le cuffie Strix Pro ricordano nel design gli occhi di un gufo, che poi ha il significato stesso della parola latina Strix. Un animale caratterizzato da un udito finissimo e dalla capacità di individuare e reagire a ogni più piccolo movimento. Strix significa quindi sopravvivere attraverso l'istinto, ed è quello che offrono le cuffie gaming Strix Pro, dedicate ai videogiocatori che vogliono sopravvivere ad ogni sfida. Non male le cuffie Strix, che funzionano anche su PS4 e che hanno l'utilissima tecnologia di cancellazione del rumore. Ci farò un pensierino. Senti, visto che siamo in tema di tecnologia, che ne dici se ci spostiamo un po' in Giappone? Sai, che è la patria della tecnologia, dei videogiochi, degli anime, dei manga e delle idol. E soprattutto delle idol come la nostra Kaori. Direi che è una buona idea, Raffaele, perché Kaori, affiancata come sempre da John Kaminari, è tornata a far visita a Tokiwa Musen, uno dei negozi di videogiochi storici di Akihabara, il quartiere high-tech di Tokyo, per scoprire i titoli più gettonati e le console più vendute del momento in terra nipponica. Vediamo! Tokiwa Musen, l'ultimo dei negozi privati di videogiochi rimasti ad Akihabara. 60 anni di storia, nel corso dei quali sono state vendute tutte le console, dal Nintendo 8-bit al Mega Drive, fino ad arrivare a PlayStation 4 e Xbox One. È proprio in negozi come questo che si scoprono le tendenze del mercato e i gusti degli utenti giapponesi. Ed è qui che si è recata la idol Kaori Horiuchi, riduce dal successo del concerto del Backstage Pass al Shinjuku Blades di Tokyo. Ciao a tutti, Roberto, la produzione! Anche questo mese indagano per Game Time sui giochi più venduti e più attesi e intervistano il direttore Yuta Horiye per conoscere le ultime novità. Game Time! In quinta posizione abbiamo Minecraft per PlayStation, mentre al quarto posto troviamo The Idol Master One for All, il nuovo episodio del più celebre simulatore sulla vita delle idol. In terza posizione, Winning Eleven 2014. Come l'Italia, anche la nostra nazionale è uscita subito dai mondiali, ma le vendite di questa versione giapponese di PES sono andate alla grande. Ai primi posti, invece, due titoli Nintendo, Mario Golf per 3DS e Mario Kart 8 per Wii U, in assoluto il più richiesto. Per il secondo mese di fila, la console più venduta è stata PlayStation Vita, seguita a ruota da PlayStation 4. In entrambi i casi, le vendite vanno finalmente bene grazie all'entrata in scena di nuovi giochi pensati per il pubblico giapponese. Credo che Nintendo se la sia cavata particolarmente bene. È stato mostrato dettagliatamente il nuovo Super Smash Bros per Wii U, oltre ai remake dei giochi Pokémon usciti 11 anni fa per Game Boy Advance, Omega Ruby e Alpha Sapphire. Semplicemente meravigliose poi le prime sequenze del nuovo The Legend of Zelda per Wii U, che offrirà un open world completamente esplorabile in lungo e in largo. E non posso far a meno di menzionare anche Splatoon, un originalissimo gioco multiplayer per quattro giocatori, dove l'obiettivo è conquistare il territorio a colpi di vernice. Si tratta di un qualcosa difficilmente catalogabile, un genere mai visto prima e per questo molto interessante. Ve ne voglio segnalare tre. Il primo è Akiba Strip 2 per PS4. Si tratta di un action game ambientato proprio qui, nel quartiere di Akihabara. L'obiettivo del gioco consiste nel combattere contro i demoni Ayakashi, spogliarli dei vestiti ed esporli così alla luce del sole. Akihabara è stata riprodotta fin nel minimo dettaglio. Pensate che compare anche il mio negozio. Gli altri titoli che vi consiglio tra le uscite di luglio sono entrambi per 3DS. Yokai Watch 2, di cui è già iniziata la prevendita e credo che al momento dell'uscita non si troverà nemmeno una copia libera, e Yoshi New Island, che approda solo ora sulle portatili i giapponesi dopo il lancio internazionale dello scorso marzo. L'offerta speciale del mese di luglio è Monster Hunter 4 per 3DS. Non è passato molto dal lancio, in Europa deve ancora uscire, ma già lo vendiamo a 1800 yen, al cambio attuale circa 13 euro. Considerando che si può giocare per centinaia di ore, il rapporto qualità-prezzo è altissimo. Al suo debutto in Giappone, Xbox One avrà una line-up iniziale abbastanza ricca, ma nel frattempo la concorrenza, rappresentata da PS4 e Wii U, si sarà rafforzata. Come negoziante sinceramente non riesco proprio di immaginare come andranno le cose. Dipenderà interamente dalla qualità dei giochi. Finché ci saranno esclusive interessanti come Titanfall, gli utenti che vorranno comprare la console non mancheranno. Sentiamo invece cosa ci consiglia Kaori. Grazie Kaori, grazie John, il mio gioco preferito, tra quelli menzionati ovviamente non vi vedo l'ora di mettere le mani su Monster Hunter 4. Ma come? Scusa, Kaori speravo che ti piacesse Pokémon Art Academy, ma me la deludi così. Mi sarebbe qualcosa di un po' più movimentato. Pokémon Art Academy lo lascio volentieri a terra, Raffaele. Ma sai che non sono bravo a disegnare. C'è sempre tempo per imparare, caro mio, e c'è da imparare, anche se non si direbbe da quegli occhiali, pure da questo soggetto, che sulla storia dei videogiochi invece la sa lunga e oggi vi parlerà di uno di quei nomi che questa storia hanno contribuito a scriverla. Vai Raffo! È uno dei personaggi più carismatici della gaming industry e ne abbiamo accennato la scorsa settimana parlando di Dangerous Dave. Mi riferisco ovviamente a John Romero. Nonostante ID Software sia stata fondata da quattro persone, i due nomi rimasti nel ricordo collettivo sono quelli dei due John, cioè Carmack e Romero. Ed è stato proprio quest'ultimo quando lavorava per una software house chiamata Softdisk a dare vita a tutto, assumendo Carmack come programmatore. Qualcuno potrà pensare che la carriera di Romero sia iniziata con la nascita di ID Software, e invece no. Pensate che quando nel 1990 uscì il primo gioco di ID Software, cioè l'intramontabile Commander Keen, Romero aveva già all'attivo circa 80 giochi realizzati principalmente per sistemi Apple. Romero e soci però avevano in mente ben altro per la loro neonata software house e fu così che nello stesso anno vide la luce Catacomb 3D, terzo capitolo della serie Catacomb ideata da Carmack, che per la prima volta mostrava un ambiente tridimensionale, o quasi, visto che in realtà la grafica era in 2D ma dava l'impressione di essere poligonale. Il successo di questo primo esperimento di sparatutto in soggettiva convinse Romero e Carmack a darsi da fare per dar vita a un gioco davvero rivoluzionario. E ci riuscirono, dopo solo 6 mesi di lavoro, realizzarono Wolfenstein 3D. Beh, con Wolfenstein 3D il mondo dei videogiochi cambiò totalmente. Un genere del tutto inedito venne conosciuto dalla massa. Mai prima d'ora si era visto un gioco tanto fluido, immersivo e anche violento. Molti passi avanti sono stati fatti da allora, ma è davvero incredibile constatare come la maggior parte degli elementi fondanti del genere fossero già così ben delineati in questo gioco. Ma Romero e soci avevano una sconfinata sete di successo e da un'idea di Carmack, genialmente sviluppata da Romero e Tom Hall, nel 1993 vide la luce Doom. Parlarvi di Doom mi auguro che sia superfluo, dopo tutto è uno dei giochi più famosi di tutti i tempi. Ma va detto che con Doom si fece un altro significativo passo avanti verso un ambiente totalmente in 3D. Un motore di gioco ideato da Carmack, infatti, consentiva l'immersione in un vero mondo che, pur non essendo tridimensionale, permetteva di muoversi su livelli dotati di scale e affrontare dislivelli. Pensate inoltre che Doom venne inizialmente distribuito gratuitamente attraverso i server dell'Università del Wisconsin. Nel 1996 nacque Quake e con lui gli FPS tridimensionali, seppur il primo probabilmente sia stato Decent di Interplay. Il motore ideato da Carmack, infatti, consentiva la creazione di aree sviluppate su più livelli e quindi la possibilità di dar vita a architetture molto complesse. Quake è stato uno sparatutto clamoroso per vari motivi, ma fu anche il motivo per cui Romero abbandonò i di software. Nei suoi piani, infatti, Quake doveva essere un ibrido fantasy RPG e quando questa sua volontà venne messa da parte, lui mollò il colpo e aprì una software house chiamata Ion Storm, assieme a un altro dei fondatori di ID Software, cioè Tom Hall. Qui Romero iniziò il suo travagliato lavoro per la realizzazione di un FPS chiamato Dai Katana, che dopo molti rinvii vide la luce nel 2000, ottenendo critiche negative abbastanza diffuse, ma anche un discreto successo di pubblico. Da allora Romero di giochi AAA non ne ha più prodotti e si fa poco vedere in giro, dedicandosi a giochi per piattaforme mobile. Ma questo è un argomento che lasciamo al nostro seba. L'ha chiamato in causa raffo il tema del mobile gaming e adesso parliamo proprio di quello, perché vedete, ogni settimana per smartphone e tablet escono decine se non centinaia di nuove app e giochi. Ma ovviamente non tutti sono interessanti e bisogna saper pescare nel mucchio quelli validi. E il nostro Sebastiano a quanto pare è un buon pescatore. Vediamo allora che cosa ha preso nella propria rete questa settimana. Vai Sebastiano. Grazie a Robby, faccio una premessa. Gli utenti Android sono spesso costretti a ricevere gli ultimi giochi e app con qualche settimana di ritardo rispetto alla versione per iOS. Ultimamente i tempi si stanno sottigliando, ma non è il caso di Batman Arkham Origins, uscito ad ottobre per console e iPhone e solo da poco anche su Android. Il gameplay non è quello visto su PC e console, e nemmeno si avvicina ad Arkham Origins Blackgate, la versione per 3DS e PS Vita. I combattimenti qui si susseguono uno alla volta e dalla stessa visuale. Richiedono una successione sempre più complessa di movimenti per inannellare combo, ma si tratta comunque di un'esperienza piuttosto ripetitiva. Consigliato sì, ma solo ai fan sfegatati dell'universo Arkham. Il mondo gaming su mobile non è fatto però solo di porting o tie-in. Ci sono serie videoludiche nate su questa piattaforma, che però seguono e vengono aggiornate da anni e possono contare su una grande community. È il caso ad esempio di Arkane Legends, un MMORPG con tutti i fronzoli di un titolo per PC o per console, ma adattato all'interfaccia touch e alle potenzialità di un ampio range di dispositivi. La grafica quindi non è il suo punto forte, ma il gioco è fluido e permette di affrontare dungeon e scontri PvP contro altri giocatori di piattaforme diverse, non solo Android e iOS, ma anche PC e Mac, senza che questi ultimi godano di un reale vantaggio. Un'altra serie molto popolare giunta al quinto capitolo è Zenonia, che resta un punto di riferimento del genere Action RPG e rappresenta per le piattaforme mobile quello che Final Fantasy e Zelda hanno significato per il gaming tradizionale. L'evoluzione di questo genere si chiama però Soulcraft 2 League of Angels, che ci metterà nei panni di un angelo per difendere la Terra dall'invasione delle orde demoniache. Se non fosse per l'ambientazione moderna, piuttosto che medievale, potrebbe sembrare un clone mobile di Diablo 3, e le somiglianze coi titoli Blizzard non finiscono qui. Molti personaggi sembrano ricoperti da alcune delle armature più prestigiose di World of Warcraft, e il logo del gioco pare ispirarsi molto a Starcraft 2. Ma questo non toglie che sia un ottimo gioco con una grafica spettacolare, e il modello freemium non è così frustrante. Basta ripetere un po' di volte lo stesso scenario e raccogliere tanto loot, cosa che gli amanti di Diablo sanno fare molto bene. Grazie Sebastiano, torniamo adesso ai PC e alle console domestiche, che diversamente dai dispositivi mobile in questo periodo hanno avuto poche uscite. Beh, meglio così, è quella parte dell'anno in cui uno ha finalmente il tempo di recuperare quello che ha lasciato indietro, o no? E anche di mettere da parte i soldini per l'autunno. Comunque, ho detto che ci sono state poche uscite, non che non ce ne siano state affatto. Infatti un'uscita di rilievo c'è ed è dedicata agli appassionati di motorsport e di quattro ruote. Si tratta del nuovo racing game di Codemasters, Grid Autosport. Con Grid Autosport, Codemasters torna all'essenza del racing game. Via tutti i fronzoli, l'obiettivo qui è uno solo, correre e possibilmente vincere. Non sarà impresa facile perché il gioco propone un'intelligenza artificiale piuttosto agguerrita, capace di dare del filo da torcere anche senza salire troppo con il livello di difficoltà. I giocatori in cerca di una sfida troveranno pane per i loro denti. La modalità carriera vi vedrà competere in 5 specialità. Touring, endurance, vetture a ruote scoperte, tuner e street. Ma l'equilibrio è decisamente spostato verso le competizioni su circuito, con 13 piste in totale, mentre i tracciati stradali attingono a Grid 2 come Washington, Parigi o Dubai. Partecipando ad eventi di una singola specialità si potranno acquisire esperienza e livelli in quella specialità. Punti esperienze ulteriori verranno attribuiti anche portando a termine obiettivi richiesti dal team, ad esempio finire una gara o un campionato entro una certa posizione, oppure per aver battuto un rivale o per aver segnato un giro veloce. Salendo di livello sarà possibile correre per team più competitivi, guidando vetture via via più esclusive. Completando gli eventi nelle 5 specialità, potrete sbloccare una serie speciale, con un mix di tutte le specialità. Le visuali disponibili vanno da quella esterna, a quella interna all'abitacolo, alla visuale dal cofano, e anche se il modello di guida non può certo dirsi simulativo, siamo comunque distanti da un approccio esclusivamente arcade. Sono state rientrodotte anche le qualifiche, che vi permetteranno di partire da una posizione migliore, utile per riuscire a farvi strada attraverso la testa della corsa, in gare della durata di pochi giri. Tant'è che la serie endurance sembra fuori posto, con corse decise in una manciata di minuti. Questo spiega, ma non giustifica, l'assenza dei pit stop. L'opzione flashback permette di rimediare ad un errore in stile moviola, e la fisica dei danni restituisce in modo piuttosto convincente l'effetto degli incidenti. Da un punto di vista tecnico, Grid Autosport offre su PC un buon livello di dettaglio, ma soprattutto una fluidità impeccabile anche su configurazioni non al top. I 60 fps sono più la norma che un miraggio. E per chi cerca la vera sfida c'è anche il multiplayer online, dove fino a 12 giocatori potranno misurarsi gli uni contro gli altri, ed è previsto anche un mix di piloti reali e vetture gestite dall'intelligenza artificiale. Grid Autosport è un titolo che offre un buon livello di sfida e tanti contenuti diversi per gli appassionati di giochi di corse. Non punta ai puristi della simulazione e strizza l'occhio semmai è il fan delle serie Toka e Race Driver. Oltre che su PC, il gioco è disponibile per PS3 e Xbox 360. E si conclude con auto da corsa che sfrecciano un po' come si era aperta questa puntata di Game Time. È stato tempo di videogiochi, ma continuerà ad esserlo sui nostri social e su web. Su Facebook cercate Game Time TV e cliccate Mi Piace sulla nostra pagina, che è la più attiva tra quelle dedicate al mondo game. Con tantissime notizie e link divertenti, siamo 160.000 ormai. Usaremo sempre di più, ma c'è posto per tutti. Tranquilli, su Twitter invece cercate Game Time Italia. Diventate i nostri follower e twittate con hashtag Tempo di Videogiochi per essere sempre in contatto con noi. Ma soprattutto? Beh, soprattutto seguite videogiochi.com, il sito ufficiale di Game Time, con tutte le notizie, le anteprime e le recensioni di titoli più gettonati per PC e per console. E se volete essere sul pezzo scaricate anche le app ufficiali di Game Time da Play Store e App Store e sarà sempre tempo di videogiochi. In TV invece l'appuntamento è per settimana prossima, il sabato alle 13.30, ovviamente qui su AXN con una nuova puntata di Game Time. Buon weekend a tutti! Grazie a tutti!